cosa ci vuole per farti salire sulla mia macchina? vabbè dai credo sia quel eh si cioè non può non essere rifa? ma va fanculo giugna ripetizione si si niente cosa ci vuole per farti salire sulla mia macchina? allora è chiaro anche la prima volta però ha detto non si sa mai ma prima di quello ha proprio guardato e oh è quello è quello è quello il problema è che vince e io di quanto mi muovo l'ha giunto lei no? per chi ha finito si per tutti